Buon regard, Bennet. Where are the Fletcher? Buttate le armi. Io vi arresto in nome della legge. Sei impazzito. Che fai? Quello che mi sembra giusto. Giusto? Ma qual è la giustizia? Quella di siringo? Che ha ucciso uno sceriffo sotto i tuoi occhi solo per entrare nella banda? Oppure quella dei vigilantes? Rispondi, è quella! Senti voi, non esiste la giustizia che cerchi. È una cosa che ti fa abbrichi quando hai il potere, la forza. E noi siamo forti voi. Noi insieme possiamo ricostituire un branco selvaggio dieci, cento volte più forte. Se tu sapessi le idee che ho io, la giustizia che tu cerchi non esiste! Sì che esiste, malediziale! È qui! Qui! Qui è il rito! Adesso lasciami perdere. Non c'è più niente da fare. No. C'è ancora una cosa da fare. Perché? Perché l'hai fatto? Anche questa era giustamente. Avevo in mente tante cose. Tante cose da fare ancora. Cose... Grandi. Grandi! 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 Grazie a tutti.